Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Radio e Pace è il tema scelto dall'UNESCO per la giornata mondiale della Radio 2023 che si celebra lunedì 13 febbraio. L'evento italiano, organizzato da Radiospeaker, si tiene al Talent Garden Isola di Milano con la presenza di Linus di Radio DJ, DJ Ringo di Virgin Radio, Roberto Sergio di Radio Rai, Petra Loregian di RDS, Paoletta di Radio Italia e di tanti altri protagonisti della radio.